Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata a Napoleone Bonaparte, di cui stiamo raccontando la storia da quando era bambino in Corsica fino ad arrivare a Sant'Elena. La puntata di oggi sarà una puntata ovviamente storica, nel senso che andremo un po' avanti con la storia di Napoleone, ma sarà una puntata dedicata soprattutto a un aspetto particolare, cioè a Napoleone e le donne, a cominciare da quella che è stata probabilmente il grande amore della sua vita, cioè Giuseppina. La storia tra Napoleone e le donne è una storia particolare, cercheremo di iniziare a raccontarla partendo da quelli che sono stati i suoi primi amori, le sue prime cotte, cercando di arrivare al perché lui e Giuseppina si siano avvicinate, raccontando anche la storia di colei che fu la prima imperatrice di Francia, che anche prima di incontrare Napoleone ebbe una storia molto, molto complessa, se vogliamo molto, molto cupa, forse più difficile di quella di Napoleone stesso e che tanto rappresentò per quello che divenne suo marito. Napoleone è sicuramente un uomo che noi incaselliamo nello spazio della politica e della guerra, e all'epoca nella politica e nella guerra di spazio per le donne ce n'era veramente poco. Eppure, come vedremo, non tanto forse in questa puntata, quanto pian piano in quelle che seguiranno nel narrare la sua storia, vedremo come in realtà molte donne abbiano in effetti influenzato la sua vita, a cominciare proprio da Giuseppina. Ma cosa pensava Napoleone delle donne? Beh, ad essere sincero, a leggere le sue lettere sembra non pensieri così positivi. Una delle sue frasi più celebri a riguardo è che per una donna che è in grado di spingere un uomo a far qualcosa di intelligente, di razionale, ce ne sono al 300 che sono pronte a spingerlo a fare qualcosa di stupido. E che cosa lo spingerà a fare Giuseppina? Ebbè, lo scopriremo in questa puntata e nelle prossime. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornato ogni volta che esce un nuovo video, sigla e iniziamo a parlare. E vi dico già che a metà c'è qualcosina da raccontare anche di guerra. Dopotutto, Marte e Venere viaggiano sempre insieme. Come abbiamo già accennato qualche puntata fa, il primo amore di Napoleone Bonaparte si chiamava Caroline de Colombier ed era una giovane ragazza che aveva conosciuto quando si trovava a Valence, che se ricordate era stata la sua prima assegnazione come ufficiale di artiglieria. I due non è che avessero molte occasioni per frequentarsi, anche perché Napoleone in quel periodo era poverissimo, spiantato, non poteva neanche andare a mangiare all'osteria se non facendosi offrire e quindi non aveva molto da offrire alla ragazza, con cui, come lui stesso racconta, si limitava a fare delle grandi passeggiate al chiaro di luna e a mangiare delle ciliegie. A quanto pare però Napoleone in quel periodo, se vogliamo anche scendere un po' in particolare i più succosi, perse anche la verginità, perché il 22 ottobre 1787 scrisse, voi sapete Napoleone era grafomane, quindi tutto quello che vi racconterò della sua vita privata arriva quasi sempre da cose scritte da lui, lettere, racconti, considerazioni, diari, tutto quello che volete, insomma. Ad ogni modo, il 22 novembre 1787 scrisse un brevissimo racconto di circa una pagina in cui raccontava di come, trovatosi a Parigi, avesse incontrato vicino al Palais Royale una prostituta. Ovviamente Napoleone le si era avvicinato con fare più o meno sua dente, aveva cercato di parlarle di massimi sistemi e questa, cedendo, ovviamente in maniera molto rapida, alle sue lusinghe, lo aveva poi invitato in casa sua. Insomma, un piccolo racconto che ci mostra uno spaccato di Napoleone. Devo essere sincero, ho fatto molta fatica per andarlo a recuperare, sono riuscito a trovarne una piccola sintesi versione. La mia impressione è che Napoleone, in quel caso, non avesse veramente capito quale fosse il mestiere della signora, o meglio, lo sapesse, ma avesse fatto finta che le sue parole comunque un po' avessero funzionato. Era, dopo tutto, poco più di un ragazzo e questo ce lo fa ampiamente capire. La sua prima vera relazione arriverà invece nel 1794 e sarà in effetti una relazione importante, se così vogliamo dire, con una ragazza che all'epoca aveva 16 anni, quindi era più piccola di Napoleone, e che si chiamava Eugénie Desiree Clary. Eugénie era la figlia, o meglio l'orfana, di un ricco imprenditore tessile che, nonostante avesse abbracciato la rivoluzione quando era arrivata addirittura la stato sindaco di Marsiglia, come spesso capitava in quei casi, ad un certo punto ne era stato divorato, e aveva lasciato però alle figlie un ingente patrimonio, cosa che probabilmente anche, oltre alla ragazza, interessava a Napoleone. In realtà, il legame tra i due era nato per motivi, se così vogliamo dire, familiari, perché il primo ad avvicinarsi alla famiglia Clary era stato il fratello maggiore di Napoleone, cioè Giuseppe, il quale aveva preso a corteggiare la sorella di Eugénie, la sorella più grande, e l'aveva sposata proprio il primo agosto del 1794. Peraltro così risolvendo anche tutti i problemi economici della famiglia Bonaparte, in attesa che il fratello, se prendete la scorsa puntata dal punto di vista temporale e l'accompagnata a questo, potete anche capire cosa stava facendo Napoleone militarmente in quel periodo, in attesa comunque che il fratello trovasse una miglior paga dalla sua professione di soldato. Ad ogni modo, il corteggiamento tra Eugénie e Napoleone, il corteggiamento di Napoleone verso Eugénie, fu all'inizio quasi tutto epistolare, anche perché poco dopo averla conosciuta, Napoleone partì per essere aggregato all'Armata d'Italia, e quindi tutti i combattimenti di cui abbiamo raccontato nella scorsa puntata. In queste lettere leggiamo di un Napoleone che palesemente non è molto innamorato della ragazza, mantiene delle posizioni abbastanza distaccate, anche se nella sua, ripeto, ampia grafomania ci tiene a dedicarle tutta una serie diversi. Quando cadde Robespierre e Napoleone, fu costretto, per così dire, a lasciare l'Armata d'Italia poco dopo e venne aggregato alla fallita spedizione contro la Corsica a Tolone, ebbe ovviamente più tempo anche per dedicarsi alla sua amata, tanto da poterla visitare, stare con lei e continuare a scriverle delle grandi, grandi lettere. Lettere in cui sembrava quasi iniziare a volerla coltivare per diventare una futura moglie. L'abbiamo detto nell'introduzione, l'idea che aveva Napoleone delle donne non era esattamente quanto di più moderno, possiamo vedere oggi, tanto per intenderci, era la visione comunque di esseri inferiori rispetto agli uomini, pur riconoscendo che molte di loro avevano un'intelligenza tutta loro. Eugénie, che era più piccola di lui, e questo ovviamente si sentiva, secondo Napoleone non era abbastanza culturata per poter un giorno diventare sua moglie, e per questo nelle sue lettere gli consiglia dei libri, alcuni gliene manda, gli chiede assiduamente se li abbia letti, cosa abbia provato da quelle letture, cerca di interessarla alla musica, cosa che Napoleone all'epoca apprezzava, le fa avere delle lezioni di musica, le fa arrivare degli spartiti addirittura da Parigi, si informa con il suo insegnante di musica, al quale però chiede di non essere troppo duro, perché dopo tutto stavamo comunque parlando di una donna, insomma cerca in qualche modo di allevare quella che nella sua testa forse sarebbe potuta diventare la futura signora Buonaparte. Le cose però ad un certo punto iniziano ad andare un po' meno bene, Napoleone peraltro nelle prime lettere, per mesi e mesi le dà del vo, in maniera del tutto rispettosa, poi ad un certo punto inizia a darle del tu, segno che forse i due si erano in effetti avvicinati e si iniziava realmente a parlare di un possibile fidanzamento. Quando però Napoleone, a metà del 1795, lasciò il sud della Francia per andare a Parigi, ricordate la scorsa puntata, era il periodo in cui era stato richiamato a Parigi, perché o meglio era andato a Parigi per cercare di non farsi mandare a combattere la Vandea, bene, durante questo periodo Napoleone progressivamente si allontana da Eugénie, o meglio, Eugénie si allontana da Napoleone, e la cosa la vediamo da alcune lettere, perché Napoleone appena partito le scrive, poi le manda una lettera palesemente per farla ingelosire, in cui dice di aver incontrato altre ragazze in società, ma che nessuna assolutamente è bella come lei, e alla fine si lamenta del fatto che sono ben 11 giorni, pensate che quantità di tempo incredibile, che Eugénie non gli scrive, e questo ovviamente gli fa pensare che le cose non vadano così bene. È probabile che ad intervenire sia stata la madre di Eugénie, chissà, forse perché un buona parte in famiglia gli bastava e avanzava, chissà, forse Giuseppe non aveva dato gran prova di sé con la sorella, o forse perché aveva pensato che quel generale, sì che però stava mettendo a rischio la sua carriera, non era forse il miglior partito per la figlia. Fatto sta che aveva deciso di dare un taglio, taglio che Napoleone, un po' da solo, un po' forse perché imbeccato dal fratello, ad un certo punto capì e comprese. Una comprensione che passa però attraverso le classiche cinque fasi del dolore, che Napoleone palesemente attraversa, ripeto, lo si capisce come sempre dai suoi scritti, nel giro di tre mesi, più o meno a partire dalla metà di giugno del 1795. Chissà, forse alla fine si era innamorato veramente di quella ragazza, così come scriveva, o forse se l'era presa perché aveva dovuto rinunciare al patrimonio. Non lo sapremo mai, ma possiamo sperare che almeno un po' di sentimento ce lo avesse messo. Ad ogni modo, la prima fase, la conoscete tutti, è quella del rifiuto, e l'abbiamo già detto, nel momento in cui ancora scriveva alla sua amata, chiedendole di scriverle delle lettere. La fase successiva, la fase successiva invece è quella della rabbia, e la vediamo in alcuni suoi scritti privati, in cui inizia a lanciare improperi contro il genere femminile in generale, dicendo che l'unico scopo che hanno le donne al mondo è quello di distrarre gli uomini e fargli perdere le cose importanti della vita. La fase successiva è quella del patteggiamento, un po' della rassegnazione, e qui di nuovo sbuca nelle lettere a Eugénie, a cui, dopo aver capito che ormai non c'era trippa per gatti, e dopo essere tornato a darle del voi, scrive che, dopo tutto, forse ha fatto bene, perché lui è un uomo destinato ai campi di battaglia, destinato a una vita fuori casa, e sicuramente il loro amore non sarebbe stato così felice. La quarta fase è quella della depressione e della tristezza, che è la fase che invece emerge dalle lettere che scrive al fratello Giuseppe, che ovviamente aveva anche delle notizie di prima mano, grazie alla moglie Julie, al quale scrive che ormai il mondo è vuoto, senza più questo amore, il mondo intorno a lui gli sembra completamente vuoto. Fortunatamente, alla fine però, arriva l'ultima fase, perché circa tre mesi dopo essere stato abbandonato da Eugénie, o comunque aver troncato la relazione, Napoleone è già pronto a Parigi, perché si trova ovviamente a Parigi, ad intraprenderne una nuova, e tra poco parleremo di quale sarà questa relazione. Prima di farlo però c'è un'ultima curiosità, in questo suo attraversamento delle varie fasi, c'è anche spazio per un piccolo scritto, un racconto, non potevamo farcelo mancare, che si chiama Clisson e Eugénie, cioè non si era preso neanche la briga di cambiare il nome di lei. Questo racconto di 17 pagine, quindi qualcosa di un po' più strutturato, racconta di questo Clisson, che è un ufficiale francese di 26 anni, esattamente l'età di Napoleone, che incontra questa Eugénie, che di anni ne aveva 16, l'età a cui lui aveva incontrato la vera Eugénie. I due si innamorano, si sposano e fanno figli. Ad un certo punto però Clisson viene chiamato a combattere per la Francia, lo fa in maniera molto coraggiosa, si copre di onore, ma ad un certo punto viene ferito, e decide di mandare il suo attendente, giovane, particolarmente piacente, dalla moglie, per informarla del fatto che non potrà tornare a casa per un po', perché è in via di guarigione, e per cercare di proteggerla. Senza nessun apparente motivo nella storia, Clisson però viene a scoprire che la moglie Eugénie lo ha tradito proprio con l'attendente, e a questo punto, ferito nell'onore e nell'orgoglio, decide di morire, lanciandosi in battaglia con i suoi uomini e morendo trafitto da mille colpi. Un finale assolutamente tragico che in qualche modo solleva Napoleone dalla chiusura della storia, scaricando la colpa su Eugénie. Ora, non solo Eugénie ovviamente non l'aveva tradito, ma ripeto, anche in Clisson ed Eugénie è difficile capire il perché lei debba tradirlo con l'attendente. Ora, se Napoleone aveva dei dubbi su un attendente, io francamente non mi immagino che ce l'avesse su Junot, che, l'abbiamo già raccontato nelle scorse puntate, per lui probabilmente si sarebbe anche gettato nel fuoco. Figuriamoci avvicinarsi ad Eugénie. A farlo razionalizzare ancora di più la cosa, o quantomeno a spostarlo da quei pensieri, furono probabilmente le cannonate, perché credo che niente come sparare a mitraglia con dei cannoni su una popolazione possa fare pensare ad altro che non siano problemi amorosi. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, Napoleone aveva risolto tutti i suoi problemi politici in quel 5 ottobre del 1795, o 13 vendemiaio, secondo il calendario rivoluzionario, di cui magari tra qualche settimana parleremo in una peristoria. Così una volta ci prendiamo un po' di tempo e proviamo a raccontare di questo calendario così particolare. Ad ogni modo, quell'evento aveva avuto ripercussioni gigantesche per Napoleone. Tutti i suoi passati da Giacobino vennero dimenticati. La sua vicinanza con Paul Barrat, che era entrato a far parte del direttorio, anzi sarà, pensate, l'unico membro del direttorio a rimanere per tutto il periodo. Il direttorio aveva 5 membri, li ebbe per tutta la durata della sua vita. Lui fu l'unico ad esserne parte per tutto il periodo per cui il direttorio governò. La sua vicinanza a Paul Barrat, di cui qualcuno diceva che era la spada, qualcun altro diceva che era il cane da guardia, gli permetterà di fare molto rapidamente carriera. Il 10 ottobre, quindi 5 giorni dopo gli avvenimenti, venne infatti nominato vicecomandante dell'armata interna. Che cos'era l'armata interna? Erano le truppe che non si trovavano distanza, che sono l'armata dell'interno. Erano le truppe che non erano distanza sui confini a combattere, quindi non si trovavano nell'armata d'Italia, non era nell'armata delle Alpi, nell'armata del Renni in Germania, non era nell'armata dei Pirinei, ma erano le truppe che si trovavano all'interno della Francia e che servivano a spegnere eventuali rivolte, nonché ad occuparsi dell'ordine interno. Ora, in uno stato rivoluzionario così traballante, quella era l'armata più grande, l'armata principale quella più numerosa, e quindi quella carica era già di per sé veramente molto importante. Ma non bastò, la carriera fu fulminia. Il 10 era stato nominato vicecomandante, il 16 ottobre diventa invece generale di divisione, e quindi fa un ulteriore scatto di grado, mentre il 26, 10 giorni dopo, neanche ancora finito ottobre, diventa comandante in capo proprio dell'armata dell'interno, quindi una delle figure militari più portanti di tutta la Francia, con tutta una serie di compiti anche sull'ordine interno. Ovvio che era solo il braccio armato di Barrat che l'avrei potuto far cadere in qualunque momento, ma insomma sicuramente gli diede prestigio e soprattutto gli diede tanto, tanto, tanto denaro. Che però non sapeva più come spendere, perché sei, sette mesi prima progettava di comprare un castello per la sua amata Eugénie, ma ormai lei non c'era più e quindi quel denaro se lo doveva tenere. Ma insomma, sicuramente avrebbe saputo che farne. Da punto di vista militare però, Napoleone dell'armata dell'interno non interessava nulla. A lui continuava ad interessare l'armata d'Italia. Lui voleva tornare all'armata d'Italia e quindi, dovendo rimanere a Parigi, iniziò a cercare in tutti i modi di interferire con quello che l'armata d'Italia stava facendo. In quel momento al comando dell'armata d'Italia non c'era più il suo comandante Dugomier, non c'era più Kellerman che l'aveva sostituito, ma era arrivato Bartolomé Cheret, il quale era un militare di carriera abbastanza giramondo, era francese, ma aveva servito undici anni con gli austriaci, poi era andato a servire presso i danesi, era rientrato con la rivoluzione, qui era diventato generale, aveva servito nell'armata del Reno, sotto Alexandre di Buarnier, e si era abbastanza coperto d'onori, era stato mandato sui Pirenei e poi era arrivato all'armata d'Italia. Non era esattamente un fulmine di guerra, chiamiamolo così, non era esattamente il generale migliore del mondo, ma sicuramente era un uomo che sapeva il fatto suo, ma che quando arrivò al comando dell'armata d'Italia si trovò non solo un'armata in grosse difficoltà logistiche, perché poco numerosa, con difficoltà a reperire cibo, a riferire rifornimenti, aiuti, anche perché nel mentre la flotta inglese aveva nuovamente impedito il traffico verso Genova e gli austro-piemontesi erano tornati a prendere possesso dei passi sulle Alpi, ma oltre a tutto questo, Cheret si era anche trovato tutta una serie di ordini che arrivavano quasi quotidianamente da Parigi, ufficialmente che arrivavano dal direttorio, che arrivavano da varie personalità politiche, ma che in realtà arrivavano da Napoleone, ordini che lo obbligavano, lo spingevano a prendere delle decisioni e a iniziare delle azioni su cui lui era assolutamente contrario. Alla fine, a novembre del 1795, però decise di seguire gli ordini che gli arrivavano da Parigi. Prese l'esercito che aveva a disposizione, esercito che era stato rinforzato all'ultimo momento grazie all'arrivo quasi miracoloso di un brigantino francese che era riuscito a superare le difese degli inglesi e che aveva portato, oltre che del cibo, anche 24.000 scarpe, che ovviamente erano fondamentali perché si trattava di combattere a novembre in montagna, senza scarpe forse non era la cosa migliore. Bene, anche grazie a quel brigantino aveva deciso di lanciare la sua azione. Azione che ancora una volta era stata programmata da Napoleone a Parigi e che prevedeva ancora una volta un attacco in più direzioni. L'attacco avrebbe avuto come obiettivo quello di ricatturare i passi montani tra la Liguria e il Piemonte e in questo modo minacciare i piemontesi, minacciare il regno di Sardegna e obbligarli all'areso, o quantomeno a cercare una pace con la Francia. La prima fase dell'attacco era uno scontro contro gli austriaci, che erano scesi dalle montagne e si erano stabiliti insieme ad un contingente piemontese nella città di Loano. Ad occuparsi di questo primo attacco sarà il generale Massena, Andrea Massena, che, dimostrando che il suo soprannome di figlio prediletto della vittoria era assolutamente meritatissimo, piombò molto rapidamente sugli austro-piemontesi e diede loro una sonorissima batosta, che, di costrinza ad abbandonare buona parte dell'equipaggiamento, che ovviamente venne razziato dai francesi, e ritirarsi molto rapidamente indietro verso il Piemonte. La seconda fase, a questo punto, avrebbe richiesto un attacco da parte di un secondo gruppo francese guidato dallo stesso Chéret verso i passi di Ceva, per poterli occupare e minacciare in questo modo la Francia. Ma Chéret, il Piemonte, chiedo scusa, ma Chéret si rifiutò di farlo, dicendo che le sue truppe non erano sufficientemente armate, che erano troppo poche e che non ce l'avrebbero mai fatta. Napoleone iniziò a tuonare da Parigi, attaccandolo in tutti i modi possibili, rivolgendosi ai politici chiedendo di destituirlo, e dicendo che se non si approfittava di quel momento, un'eventuale nuova campagna in Italia sarebbe stata molto difficile. Chi aveva ragione tra i due? Beh, è difficile dirlo. Chéret sicuramente si trovava sul posto, e se ci dice che le condizioni ambientali non erano adatte, gli si può anche credere. Dall'altra parte, però, a posteriori, anche Napoleone aveva ragione, perché in questo modo si diede tempo agli austriaco, gli austro-piemontesi, di riorganizzarsi. Gli austriaci erano addirittura convinti di dover abbandonare il Piemonte dopo la sconfitta di Loano, e invece riuscirono a riorganizzarsi, e i piemontesi pare che fossero addirittura sul punto di chiedere la pace, perché erano convinti che sarebbero presto stati invasi dai francesi. Ma Chéret appunto non si era mosso, e quindi tutto si era fermato. Napoleone, dopo tutto, si trovava a Parigi, e a parte urlare, più di tanto non poteva fare, anche perché a Parigi gli altri ufficiali erano sempre convinti del fatto che l'armata d'Italia fosse un'armata del tutto secondaria, e che il cuore della guerra che la Francia stava combattendo doveva essere in Germania, dandone e mandato all'armata del Reno. Abbiamo detto, però, che in questo periodo Napoleone riuscì, in mezzo alle sue arrabbiature per come andava la guerra, anche a dimenticare definitivamente Eugénie, e lo fece grazie alla donna protagonista principale della puntata di oggi che lo avrebbe affiancato per buona parte della sua vita, cioè Giuseppina. Ora, Giuseppina, o Giuseffine, era in realtà il nome con cui la chiamava Napoleone, ma il suo vero nome era Marie-Josè-Rose-Tascherre. Il nome con cui normalmente ricordata di Buarnier era invece il nome del primo marito, ma ci arriveremo. Ad ogni modo, Marie, chiamiamola Giuseppina così ci capiamo, Giuseppina era nata a Martinica, che per chi non lo sapesse è un'isola caraibica che all'epoca, in realtà ancora oggi, fa parte della Francia. La sua era una famiglia francese, anche se lei viene normalmente ricordata come Creola proprio per questa sua origine caraibica, ma la sua era una famiglia assolutamente francese che aveva lasciato la Francia e si era spostata alla Martinica per cercare fortuna, come tanti facevano nelle colonie, famiglia della piccola nobiltà. A Martinica non è che avessero trovato tanta fortuna, non l'aveva trovata al nonno, non l'aveva trovata al padre, che però aveva avuto fortuna nel matrimonio, perché aveva sposato una donna che non solo era di più alto rango sociale, ma che soprattutto era più ricca e grazie a questo matrimonio aveva avuto in dote una piantagione e dopo la morte del suocero ne aveva anche avuto le sostanze. Il problema è che il padre di Giuseppina era però anche un pessimo affarista, era uno scialacquatore, era un uomo che sprecava i soldi in mille modi e il risultato fu che gli affari andarono talmente male che pian piano la famiglia si indebitò sempre di più, tanto che pensate quando un uragano distrusse la loro casa non ebbero i soldi per ricostruirla e dovettero andare a vivere sopra la raffineria in cui veniva lavorato proprio la canna da zucchero prodotta nella piantagione. Di questo periodo di Giuseppina si è scritto tantissimo già quando era ancora viva soprattutto dei detrattori del marito i quali descrivono in questo periodo una ragazza molto che si lasciava andare a qualunque tipo di vizio che avesse tantissimi amanti addirittura con gli schiavi di colore che venivano utilizzati nelle piantagioni che amasse indulgere nel fumo nell'alcol in realtà forse l'unica vera passione non proprio tanto Sara della ragazza era quella di masticare la canna da zucchero cosa che si faceva da quelle parti e che le cariò in maniera irrimediabile i denti tanto che Giuseppina era nota per avere dei denti quasi tutti mancanti quelli ancora presenti erano neri veramente brutti e in tutte le rappresentazioni non mostra mai i suoi denti pare che in effetti avesse imparato a sorridere tenendo i denti molto stretti proprio per evitare di far vedere questa cosa anche perché per il resto invece era una bellissima ragazza diventerà una bellissima donna era però anche una ragazza che proprio a causa delle difficoltà economiche della famiglia non aveva potuto studiare all'epoca era prassi che la nobiltà dalle colonie mandasse i figli in Francia per studiare i figli maschi per studiare materie che servissero loro per il loro lavoro le figlie femmine invece per diventare abbastanza culturate da poter trovare un buon matrimonio non fu questo il caso di Giuseppina e delle sue sorelle che proprio per le mancanze del padre dovettero invece studiare alla Martinica con il risultato che era in realtà una ragazza che di cultura ne aveva veramente molto poca le cose cambiarono quando ebbe 15-16 anni perché il padre ricevette da un parente un visconte di Buarnier una proposta di matrimonio che avrebbe riguardato il figlio minore del visconte Alexandre Alessandro chiamiamolo così così un po' più facile di Buarnier e la sorella di Giuseppina quando però arrivò la richiesta la sorella era da poco morta di febbre malariche e quindi il padre decise semplicemente di modificare la richiesta facendo accettando questo matrimonio a patto che ovviamente avvenisse proprio con Giuseppina che in questo modo a 16 anni venne impacchettata caricata sulla nave e spedita in Francia dove nel 1779 sposò proprio Alessandro non ve l'ho detto perché all'inizio mi sono un po' dimenticato Giuseppina era del 1763 se avete fatto bene i conti quindi aveva ben sei anni meno di Napoleone la cosa ovviamente dava forse un po' più fastidio a Napoleone ma anche a lei ma Giuseppina pensate era famosa per giocare molto sulla sua data rinascita tendendo a togliersi sempre degli anni quando Napoleone la sposò sul certificato venne riportato che Giuseppina era nata nel 1768 e anche più avanti sui documenti ufficiali spesso venne utilizzata quella data ma continuando a togliersi degli anni ad un certo punto arrivò dei risultati quasi ridicoli tanto che Napoleone disse che il primo figlio a far bene i conti era nato già a dodicenne altrimenti era impossibile che fosse riuscito a nascere ad ogni modo prima di lasciare la Martinica Giuseppina secondo la tradizione Giuseppina aveva consultato una maga locale la quale le aveva fatto una predizione dicendole che avrebbe avuto un matrimonio molto sfortunato che avrebbe dato molto dolore ma dopo quel matrimonio sarebbe riuscita a diventare più importante addirittura di una regina in effetti il matrimonio con Alexandre di Buarnier fu un matrimonio pessimo Alexandre era un uomo violento un uomo che non si faceva nessun problema a picchiare la moglie a trattarla malissimo un uomo peraltro che fin dall'inizio dimostrò di disprezzare tantissimo Giuseppina definendola una donna inutile con cui non riusciva a stare non in grado di stare in società una rozza contadina arrivata dalle colonie e ben presto nonostante avesse fatto due figli un maschio Eugenio e una figlia Ortensia tornò a far quello che faceva prima cioè occuparsi dell'esercito perché era un ufficiale ma soprattutto andare in giro con le sue amanti in maniera peraltro assolutamente palese e chiara facendo ovviamente infuriare molto Giuseppina mentre la moglie era incinta della secondogenita Ortensia pensò bene addirittura di lasciare la Francia e caricati bagagli e amante quella del momento lasciò la Francia e si diressa alla Martinica ospite dei suoi parenti acquisiti quelli della moglie che quindi si trovarono il marito di Giuseppina e la sua amante cosa che lui non cercò in nessun modo di nascondere con gravissimo scandalo perché andò alla Martinica in realtà la sua sarebbe dovuta essere solo una tappa cioè voleva raggiungere la Martinica per poi spostarsi negli Stati Uniti per partecipare alla rivoluzione statunitense alla guerra di indipendenza statunitense contro l'Inghilterra ma quando arrivò era ormai troppo tardi e quindi si fermò semplicemente alla Martinica dando grande scandalo qui peraltro l'amante lo convince anche del fatto che la figlia Hortensia che era nata leggermente in anticipo forse non era sua cosa in realtà poco credibile cosa che lo spinse non solo a cercare in tutti i modi di dimostrare che la moglie fosse una poco di buono andando ad interrogare chiunque sull'isola gli potesse raccontare del suo passato torbido meglio che lui si immaginava torbido ma addirittura lo spinse a scrivere una lettera alla moglie intimandole di lasciare la loro casa di Parigi e di chiudersi in convento con i figli cosa che in effetti Giuseppina fece arrendando in un convento che in realtà era una specie di ricovero se così vogliamo dire per donne nobili in difficoltà riportandosi qui da sola e insieme ai due figli in questo periodo però Giuseppina aveva iniziato anche a muoversi attraverso i salotti aveva iniziato a fare delle buone amicizie perché dopo tutto non era una donna stupida tutt'altro una donna brillante come ebbe a dire Talleyrand era una delle persone che riusciva a mostrarsi tanto brillante una delle persone che lui conosceva che riuscivano più a mostrarsi brillante pur non essendolo realmente insomma era capace di mostrarsi forse anche più di quello che era e grazie a questo aveva iniziato a intessere delle relazioni e a compensare quell'istruzione che gli era mancata riuscendo a entrare nei vari salotti e a capire un po' come il mondo girava quando Alexandre tornò a Parigi per questo i due decisero di separarsi Alexandre quando il figlio Eugenio ebbe cinque anni lo prese con sé Hortensia rimase invece con la madre e appunto Giuseppina iniziò a vivere lontano dal marito a casa del suocero i rapporti tra i due continuarono per essere pessimi anche perché Alexandre avrebbe dovuto versarle dei soldi che molto spesso non arrivavano anche perché lui come era stato il padre di Giuseppina aveva un pessimo fiuto per gli affari e mandava in rovina tutto quello che aveva il risultato fu che Giuseppina dovette iniziare a frequentare varie corti cercando amiche che potessero in qualche modo sostenerlo e cercare nuove fonti di sostentamento della famiglia cosa che ovviamente diede adito a molti pettegolezzi anche perché diciamolo all'epoca avere degli amanti era una prassi assolutamente comune alla fine poco prima dello scopo della rivoluzione tornò a Martinica anche perché il padre e l'ultima sorella erano morenti e in effetti morirono quando arrivo lì rimarrà a Martinica per due anni anche qui frequentando la corte di uno zio a Port Royal e di nuovo scatenato una marea di pettegolezzi e quando scoppierà la rivoluzione che porterà una serie di rivolte anche di schiavi sull'isola deciderà di tornare in Francia il marito intanto in Francia aveva capito bene dove stava andando il vento e per questo nonostante fosse nobile si era ben presto unito ai rivoluzionari era diventato uno dei più accesi in tal senso e grazie a questo aveva scalato posizioni nell'esercito francese cosa che gli aveva permesso di avere una rendita migliore e tutto questo si ribaltò anche su Giuseppina ma gli aveva dato anche il comando di una parte dell'armata del Reno il problema è che se era bravo dal punto di vista politico dal punto di vista militare no e il risultato fu che a metà del 1793 la sua armata venne sorpresa nella città tedesca di Magonza dalle forze nemiche della coalizione nemica e subì una durissima sconfitta con il generale che per salvare i suoi uomini fu costretto ad accettare la resa e poi ritirarsi abbandonando la città tornato in Francia venne considerato un traditore nel nuovo clima molto acceso il fatto che fosse nobile il fatto che avesse perso lo poneva classicamente tra i traditori e il risultato fu che venne preso e sbattuto in galera e dieci giorni dopo la stessa sorte toccò anche a Giuseppina che nonostante ormai vivesse separata dal marito venne tradita da una lettera anonima presa e sbattuta in una prigione per donne nobili questa prigione era un disastro diciamolo chiaramente era stata ricavata nella cripta di una vecchia chiesa quindi era sottoterra arrivava pochissima aria che era malsana le donne erano tenute in condizioni terribili ricevevano pochissimo cibo solo una bottiglia d'acqua al giorno che doveva essere utilizzata per tutto cercare di darsi una lavata bere insomma immaginate quale fossero le condizioni igieniche alcune donne peraltro venivano anche violentate dai secondini insomma la situazione era veramente pessima e molte di quelle donne uscirono dalla cripta o perché morte o per essere portate alla ghigliottina questo periodo fu ovviamente terribile per Giuseppina che sappiamo dimagritantissimo probabilmente si ammalò visse in condizioni terribili e pare che piangesse tutto il giorno tutta la notte quando pensando ovviamente di star morendo forse questo anche la salvò perché nessuno pensò di ghigliottinare quella donna che pareva sul punto di morire in ogni momento ma al marito andò molto peggio perché il 23 luglio del 1794 venne preso portato al patibolo e ghigliottinato la morte di Alexandre ovviamente gettò ancora più nello scoramento Giuseppina che pensava che presto sarebbe toccata anche a lei ma per quelle particolari porte girevoli della storia in realtà tutto cambiò cinque giorni dopo infatti verrà Robespierre verrà deposto come abbiamo raccontato nella scorsa puntata e poi ghigliottinato altri dieci giorni e tutti i prigionieri che erano stati catturati durante il terrore molti dei prigionieri catturati durante il terrore tra cui proprio Giuseppina vennero liberati e poterono tornare alla libertà insomma negli stessi giorni in cui Napoleone veniva messo in galera da saliceti come abbiamo raccontato nella scorsa puntata Giuseppina invece ne usciva insomma ripeto queste strane porteggirevoli della storia ad ogni modo una volta uscito in un'uscita di prigione Giuseppina si trovò ancora una volta senza denaro senza aiuto perché il marito era morto di sostanze ne erano rimaste poche molte erano state requisite e bisognava trovare il modo di vivere a venirle in aiuto furono alcune delle donne che aveva conosciuto durante la prigionia le donne della società dell'altra società francese a cominciare da Teresa Talien che era una delle più note madrine per così dire delle corti di Francia anche una delle più chiacchierate diciamolo chiaramente si diceva che fosse stata lei dalla prigione a manovrare alcuni dei suoi amanti per far cadere Robespierre ma questo forse è un po' troppo fatto sta che la Talien Giuseppina e tante altre iniziarono a gestire queste nuove corti rivoluzionari possiamo dire così francesi questi nuovi salotti buoni francesi in cui la buona la buona gente le persone ricche di Parigi amavano intrattenersi è un periodo in cui queste donne iniziano a vestirsi con degli abiti molto appariscenti ispirati al periodo dell'antichità greca e ad essere definite merveilleuse e in effetti è poi una moda che rimarrà anche nel periodo successivo soprattutto nel periodo dell'impero proprio di Napoleone durante questo periodo ovviamente Giuseppina per cercare di mantenersi iniziò ora che era vedova ad avvicinarsi a vari uomini prima un generale poi alcuni uomini politici alla fine divenne l'amante di Paul Barra che abbiamo già nominato prima e sarà proprio tramite Paul Barra che ad una festa conoscerà Napoleone se Giuseppina probabilmente a Napoleone fece da subito un grande effetto era una donna di 35 anni bellissima molto apprezzata in società è facile pensare che Napoleone invece a Giuseppina tutto questo effetto a me inizialmente non lo fece come lei stessa descrive Napoleone in quel periodo era questo omino molto magro smunto dal colorito giallastro i capelli spesso sporchi peraltro affetto da scabbia come abbiamo già raccontato probabilmente presa durante l'assedio di Tolone insomma non doveva essere esattamente il classico principe azzurro ma per Giuseppina che nel mentre stava venendo allontanata da Barra che si era già stufato di lei poteva essere un buon partito l'aggancio tra i due avvenne in una maniera che è stata raccontata peraltro curiosamente anche nel film da poco uscito di Ridley Scott tramite il figlio Eugenio infatti uno dei compiti che aveva Napoleone come comandante dell'armata dell'interno era quello di occuparsi di requisire le armi dei cittadini e tra queste armi che erano state requisite c'era anche la spada di Alexandre di Buarnier il figlio Eugenio venne di Giuseppina venne mandato proprio da Napoleone a chiedere indietro questa spada spada che Napoleone stesso portò a Giuseppina in questo modo iniziando ad intrattenere un rapporto tra i due Napoleone era innamorato di Giuseppina visto che abbiamo detto che Giuseppina invece più di tanto non lo era almeno in questa prima fase poi vedremo come evolveranno le cose in futuro è difficile dirlo di certo pare che fosse appassionato che questa donna lo colpisse lo attirasse anche perché Napoleone era più giovane non aveva molta conoscenza del mondo Giuseppina sapeva invece molte più cose di lui lo avrebbe potuto inserire all'interno dei salotti buoni lo aveva forse anche un po' curato la sua persona di certo se Giuseppina aveva dei vantaggi della sua relazione con Napoleone anche Napoleone aveva dei vantaggi della sua relazione con Giuseppina perché era il modo per riuscirsi a inserire in quei salotti dove effettivamente si prendevano le decisioni e dove lui così ignorante di cose di corte e per di più corso faceva molta fatica ad entrare il risultato fu che i due si sposarono molto rapidamente il 9 marzo del 1796 infatti in una cerimonia civile alle 10 di sera i due si sposarono in maniera molto semplice lei era vestita con un vestito bianco e una fascia tricolore lui in divisa i due si sposarono e tra i testimoni di nozze ci fu anche Paul Barrat e la cosa quantomeno può sembrare un po' curiosa ad ogni modo il matrimonio fu alle 10 di sera ma in realtà avrebbe dovuto essere alle 8 il motivo di queste due ore di ritardo fu che ad arrivare in ritardo non fu la sposa ma proprio il marito Napoleone Napoleone il quale peraltro subito dopo il matrimonio fu costretto a dire alla moglie che la loro luna di miele sarebbe potuta durare al massimo due giorni dopodiché Napoleone l'avrebbe dovuta lasciare e la lascerà in effetti per parecchi mesi perché che cos'era successo? beh era successo che ad un certo punto i politici di Parigi si erano stufati di queste continue discussioni tra Napoleone da una parte e Cheret dall'altra e quando all'ennesima volta che Cheret aveva detto di essere pronto a dare le dimissioni si erano apprestati a scrivergli avevano deciso questa volta di accettarle e il 2 marzo del 1796 quindi una settimana prima avevano accettato le dimissioni di Cheret da comandante dell'armata d'Italia e avevano lo stesso giorno nominato Napoleone nuovo comandante un regalo di nozze quantomeno molto molto apprezzato da Napoleone e quindi Napoleone dovete lasciare Giuseppina le scriverà ancora mare di lettere durante la campagna magari ne parleremo nelle prossime puntate ma dalla prossima settimana tocca tornare a parlare di cose militari perché Napoleone inizierà la sua prima campagna d'Italia quella che a tutti gli effetti lo renderà uno dei generali più famosi d'Europa ma ne parleremo nella prossima puntata prima di chiudere come sempre chiudiamo la storia di alcuni dei personaggi introdotti non la chiudiamo quella di Cheren perché di Cherer perché tornerà ancora in una tra qualche puntata quando parleremo della seconda campagna d'Italia vedrete non in maniera positivissima è un momento però di chiudere la storia di Eugénie Desiree Clary che in realtà non chiuse la sua storia perché è vero che non sposò Napoleone chissà forse un po' la madre si mangiò le mani ma fece comunque un ottimo matrimonio perché sposerà Bernadotte uno dei generali di Napoleone che diventerà poi sovrano di Svezia quando Bernadotte si trasferirà in Svezia Eugénie non lo seguirà anche perché il loro matrimonio non era esattamente molto felice lei non amava molto la corte svedese il clima svedese e rimarrà per molto tempo a Parigi quando però Bernadotte diventerà effettivamente sovrano si trasferirà con lui a Stoccolma ripeto matrimonio non molto felice che però fu duraturo e gli attuali sovrani di Svezia discendono da lei piccola curiosità l'altra di cui chiudiamo la storia è Teresa Talien che era in realtà originaria della Spagna e che rimarrà fino al 1805 una delle regine dei salotti buoni di Parigi poi si sposerà per l'ennesima volta aveva avuto tantissimi amanti mariti quant'altro e si trasferirà a vivere in Belgio dove dopo la morte del marito lei vivrà più di 60 anni si occuperà dei suoi nove figli avuti da tanti matrimoni o amanti anche lei era stata amante di Barra ma il figlio avuto con lui non era sopravvissuto e diventerà una filantropa insomma sopravviverà a questo periodo napoleonico e questo direi che è veramente tutto quindi ci vediamo mercoledì prossimo per iniziare a raccontare la prima campagna d'Italia e come sempre prima di chiudere lasciatemi ringraziare abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti e oggi il mio ringraziamento va a Manuel Segato grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle P delle uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pidora di storia mercoledì prossimo per la prossima puntata della storia di Napoleone a presto ciao ciao